Villa Flajani ad Albadriatica ospiterà durante il fine settimana la mostra Progettare con eco, abilità e sostenibilità ecologiche. L'iniziativa vedrà una a due giorni di incontri, dibattiti e workshop sulla progettazione creativa con 26 architetti italiani che proporranno le proprie esposizioni perché progettare ecosostenibile non deve essere più solo uno slogan ma una necessità. Una mostra convegno di design e architettura e paesaggio che stiamo organizzando grazie al patrocino del Comune di Albadriatica e dell'Ordine degli Architetti e proponiamo una sensibilizzazione sul tema dell'ecologia un tema che adesso sempre più verrà affrontato nel futuro sia dal punto di vista delle tecniche costruttive quanto proprio della creatività personale. Il nostro intento è quello appunto di sensibilizzare ma anche di accomunare diverse genialità creative che stiamo conoscendo nel nostro percorso professionale. Oltre a una mostra ci saranno anche dei workshop per spiegare come si progetta in maniera innovativa e seguendo queste logiche di ecosostenibilità. Ci saranno due conferenze. Il sabato in cui interverranno tutte le aziende sponsor dell'evento e tratteranno di materiali ecologici assolutamente, di tecniche costruttive innovative. Invece la domenica ci sarà sempre uno ciclo di conferenze dei designer e dei progettisti che parleranno dei loro progetti. Quella della progettazione ecosostenibile è sicuramente una sfida interessante ma secondo lei il nostro territorio è pronto ad accettare questa sfida? Se sia pronto, questo non glielo so dire, stiamo lavorando affinché si possa invece portare avanti la cultura del progetto che operi con la sostenibilità. Ci stiamo impegnando già da molti mesi su questo fronte, considerando tra l'altro tutte le scale della progettazione. Non mi riferisco solo a quella dell'edificio, del design, ma anche a quella del territorio. Voglio ricordare che già abbiamo avviato anche altre iniziative che vanno in questa direzione occupandoci anche della difesa idrogeologica del territorio, promuovendo altri seminari tecnici intesi a divulgare la cultura della sostenibilità, anche per cercare di far capire che non è soltanto uno slogan.